A via a tutti ragazzi, sono Alessio PCM e vi do il benvenuto, il bentornato sul mio canale e oggi continueremo il nostro let's play su Game of Thrones della Telltale Games e ragazzi siamo in un punto molto critico, infatti il nostro caro amico, il nostro caro conte, il nostro caro duca il nostro caro, mi sfugge il nome, Roderick, è appena arrivato, perlomeno sta arrivando ad alto colle e le cose non si prospettano molto facili per lui in ogni caso ragazzi, come al solito vi chiedo di mettere qua sotto un bel mi piace per supportare la campagna di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e di condividere questo video con amici, cosa molto importante inoltre con i pochi commenti che mi avete fatto la volta scorsa ma avete fatto intendere che ho fatto delle scelte discrete e che mi stanno muovendo a vostro parere bene sono contento che la pensiate così in ogni caso a fine video ricordatevi di commentare dicendomi cosa avreste fatto voi se non avete giocato il gioco e cosa avete fatto se avete giocato il gioco ok però adesso partiamo vediamo cosa succede infatti vedete alto colle, fortezza di casa Whitehill che posto di merda però eh sanno tutto sanno tutto io non sono sicuro che veni ma è una buona cosa che veni be honest con me am I in danger here my father honors guest right just as you do and I'm supposed to trust my life to that I wanted us to work together but you refused so now my father is doing this his way if you value your life and your family you'll listen to what he has to say you need to take him seriously today which means keeping a level head and thinking before you jump to conclusions I'm here in good faith, aren't I? yes I suppose you are you have an impressive stronghold Lady Gwyn these walls hold a thousand years of Whitehill history a thousand years of bloodshed but our houses were close once and could be again so much of our history has been lost should we get on with it? the great hall is this way ragazzi sapete che ho visto uno spoiler molto probabilmente e ciò mi preoccupa sono i tuoi soldati che aspettano problemi? sono pronti per niente la forma che vedono l'inemone è dentro loro ma non c'è youtube ragazzi si era uno spoiler ma non c'è 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 questi sono i fratelli? i tre più vecchie, sì Coral morse di Grayscale fa qualche anno Edbert è in Citadel Torrin serve a Roose Bolton e Grif, ovviamente, non è nascita ancora è questa tua madre? sì però non mi ricordo che non mi ricordo che faccia imbronciata che faccia imbronciata? io sono molto più vecchio, sì sembra un po' come tua madre ora il padre non è uno per la portruttura ma il mio padre il tuo padre non si trattava molto, ha? si trattava quando mia madre era ancora vivo Sarà morta di parto? i miei fratelli non erano mai gentili a Grif era bostoso, gullibili e rapido per l'angere il mio padre sempre lo difendì un bianco è un bianco, si diceva interessante conoscere un nemico Coral sono molto curiosito ragazzi per quello che potrebbe succedere da un momento all'altro non si prospetta niente di buono non si trattava non ci trattava non lo so Pane e sale, almeno quello, teoricamente. Facciamo il giretto, ragazzi, vediamo cosa troviamo. Uno scudillegnoferro. Vediamolo più da vicino. Mamma, guarda questo. Questo ironwood è morto. Non sono sorpreso. Le giretto bianche non erano mai buone per la roba. OI! Stai fuori da quello! Ehm, che cattivi, ragazzo. Abbiamo finito il giro? Sì. Vabbè, se mi volessi sedere... Oh, ci sono le stoviglie da guardare. Andiamo a vedere le stoviglie. Mamma mia, ragazzi, che cosa spossante. Oh, meno male che è arrivato. Oh, così simbolo. Oh, così simbolo. Sì. Non sei nervoso, non sei? No. Potrei chiederti la stessa cosa. Tutti questi soldi... Sui senti che ti senti da nulla. Padre, per favore, possiamo arrivare solo con questo? Seduti con calma. Bravi. Bellissimo il tavolo, però, ragazzi. Vino! Ora, il tuo padre, prima di cui ha chiamato Highpoint, un giro per i di questi. Quale stoviglie, ha detto. Quale... ...crastruttura. Non si parla di parlare. Se mi chiedi, io dirò che era inutile. Highpoint è molto impressionante. Sì, è vero. Per rispettare con il vostro peccato. Ludd, dove è Ryan? Sempre preoccupi di con la famiglia, non ti? È vero. Sì, come è? Sì, chiederti con la famiglia! Non ti chiederti con me, Roderick? Come un simbolo di nostra buona? A famiglia. A famiglia. È quella notata. Sì, diciamo perché siamo qui. Il negozio di Ironwood è vivente, Roderick. In realtà, i Boltons vogliono le strumenti più vele che possiamo fare. E quando Bruce Boltons vogliono qualcosa, io voglio darelo a lui. Quindi, in altre parole, ti necessitai nostra scopla. Sì, non ti senti una scopla piena di te stesso. Voi, i Forresteri, sono andati per la destruttura. Ma, tu conosci più di Ironwood di qualsiasi casa nel romanzo. E sarebbe una scopla di tutto quello che saperebbe essere perdita. Voi, io mi ricordo di Ironwood per i Boltons, e io farò sicuramente che i Forresteri survive. È absurdo. Se pensi che puoi imparare... Non mi imparare. Quindi, tu proposte un'allianza? Un'allianza? Ho detto nulla di tipo. Sì, l'avevo intuito. Sì, lo renderebbe il suo scopla. Roderick, questo potrebbe salvare la tua casa. Io lo consideravo un'allianza. Vedi cosa devo mettere con te? Solo diamo il tempo. Ho detto. Io ti offro una pausa. E tu lo spiagli. Io ti offro una possibilità. E tu chiedi più. No. Nei che ti ricordi? Tu chiedi il mio ringe. Ecco come va, Roderick. Oltre te accettate con i miei termi, Oltre te accettate con i miei termini. Ti ho senti? Tu hai senti da lui? Cosa ti accettate? È il nostro cattore più scopla, along con il tuo entire garrison. Non ti ho fatto. Tu hai imparso il mio figlio. Il fu fuori l'ordere del nord. Roderick, come potrei? Tu hai imparato il mio figlio. Tu ti accettate con i miei termini. Se il mio figlio arriva a casa. Noi vogliamo Ryan e lo vogliamo oggi. Finisce malissimo, ragazzi, finisce malissimo. Tra il figlio! Ryan! Mamma! Roderick! Tu hai venuto, proprio come hai detto che tu eravessi. No! Padre, no! Che stai facendo? Tu hai imparato il mio figlio. Mi? Lascia lui! Non è andato! Non è andato! Non ti faccio questo! Non ti faccio questo! Non ti faccio questo! La ragazza! È un figlio! Un figlio o un figlio! Questo non è quello che abbiamo accettato. Non è lui! Non è io! Se vuoi vedere Grif vivi di nuovo... Tu pensi che ho avuto due pescini di Grif? Cosa? 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 Non ti faccio questo! Non hai Therm про il Μ che le dà le farai. Ragazzi, perché le mamide qui le creamerà il mio figlio... Di Kenna cosa ha lato… Ok! Allora! Allora! ensitivedarmi! Il suo figli! Di unknown, non lo r фильма! Cosa lo achi? Nonацию lo canalizzarevi, Roderick! prettigli pubblicisti! filme traci, Il των ti f Alexandria toadh siamo nach Stringti diciamo. Mentreà Dion le fin desaparecini è un tirolo crema. grandissima frase sai cosa Roderick? sei proprio Ryan, vieni no! faremo il trade sul soile neutro Griff, per Ryan un Sean, per un Sean bene bene ora vieni fuori dalla mia scuola e i Dori hanno merito su noi quando i Boltoni vengono per il suo Ironwood ora vieni è stato un piacere, amico hm sono molto scusa Roderick mh io sono dell'ice ecco è l'Ostwatcher uuu figata ora, ascoltate nessuno di quei guardi non può vivere lungo per la scuola perché se lo facciano questa invasione avviene molto più difficile non si tratta che figo che è che figo che è allora abbiamo due guardie qua abbiamo due guardie qua bisogna prendere queste due prima quanti uomini pensi che erano là? non lo so per sicuro almeno cinque magari più per rispondere e poi ne abbiamo qualcuno e poi ne abbiamo qualcuno a fare giustizia a fare giustizia non lo so non lo so non lo so non lo so che bel lavoro non lo so no lo so che non lo so Tu vuoi essere il leader? Decidi Io ando all'interno Tu assolutamente sicuro di chiare il camino Ok Non so, non so, non so. molto silenzio due colpinetti ci servono che bestia dobbiamo farli sparire dentro ce ne sono ancora piano ragazzi e io di quali mi occupo? di quali sul tetto anch'io? no 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 è troppo cosa? è troppo ti farai lo so lo so lo so lo so non sembra che lo so un piccolo rat tu hai detto qualcosa? beh ho detto che sei un piccolo rat perché stai riuscendo? no 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 fantastico ragazzi le hanno fatte davvero bene le azioni di combattimento che mi manca un po' che c'era dire ok che non si un po' che c'era dire ok non ci siamo con il che hanno fatto Ha ragione Dobbiamo eliminare prima la copertura dall'alto E' dannatamente preciso asciercelo a dire Merda Cazzo, cazzo, cazzo Porca miseria ragazzi E' stata testissima Matriz Oh, ma volevi brutto pezzo Cazzo, 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 cazzo Che botta di culo Bravissima E' tostissima sta ragazza Porca puttana Ok In faccia, in faccia, in faccia, in faccia In faccia Ah, piano un po' diverso Vuole rompere qua Non avrà fatto un po' troppo casino come cosa Figato però Davvero C'entrae una strage Comunque Oh, non credo che ti ha fatto Croft Croft Questa è una strage Non sono morto Non è ancora La grande rivolta La grande rivolta La grande rivolta La grande rivolta Olè Ho preso lascivimente il sole dell'inverno Figata Oh, e siamo di nuovo a Castelferro Molto bene, molto bene Cioè, in realtà, non tanto bene Però A chi lo dici? No È stata una botta di culo Inizia a nostra tavola Il sarà proprio qui Occhio 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 Infatti Non è una vittoria È una pace bianca Occhio Occhio Non mi lascio pensare a niente di buono questa E figa Dalia Siamo nella merda Sir Roiland Occhio 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 C'era tutto troppo bello A Cazzo è Ramsey Occhio Cazzo è Ramsey Occhio Oppure maybe credi che puoi fare meglio É Occhio Alcchio Ti .. Adesso Ti ho scritto una canzone del tuo con te Io mi racconto? Scusate Occhio No Ni Cazzo di pazzo malato Sì, spero che non l'abbia stuporata E tu? Ho detto che sei un uomo che non può essere bruciato Ho deciso di venire a vedere per me Ed è finito l'episodio e come al solito vi salto il prequel Ok ragazzi, siamo alla fine e vediamo un po' Episodio 4, figli dell'inverno Tu e l'87% avete portato fin con voi Tu e il 38,8% avete mostrato pietà a Griff Quindi siamo stati molto pochi Poi tu e l'87,5% avete tenuto il segreto di sera con Lord Tarwick Tu e il 64,8% avete ordinato ai Glamour Glamour di rimanere a AeroRef E a pensarci Forse non è neanche stata una buona idea Magari se li portavo finiva anche meglio Ma non penso Perché di Skrulli ha massacrati tutti Proprio ci scommetto E poi tu e il 44% avete stoppato Beska Da uccidere il grande padrone Il grande tipo Il suo vecchio padrone in pratica E' stato un episodio interessante Devo dire molto interessante E dato che oggi ragazzi uscirà il doppio episodio Direi che ci possiamo stoppare qua Se l'episodio vi è piaciuto mettete qua sotto un bel mi piace Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Consigliate il canale ai amici condividendo il video E ragazzi guardate il prossimo episodio Che uscirà fra qualche ora Ave a tutti Ci vediamo nel prossimo Grazie a tutti